Marina, è vero che dopo aver subito un intervento per melanoma sono sconsigliati massaggi estetici, ceretta, idromassaggi e sauna? Mario? Assolutamente no. Ecco, questo fa parte delle fake news che girano, oppure ci sono dei miei pazienti con mio grande dispiacere che vengono e mi chiedono, dottore guardi ho bisogno di un certificato perché il mio fisioterapista non mi fa il massaggio perché massaggiando la pelle facilito la disseminazione delle cellule tumorali. Non è vero niente. Io credo che tutto quello che è stato detto è fattibile, i pazienti che sono stati operati di melanoma in maniera radicale possono condurre una vita assolutamente normale e poter fare anche dei massaggi, poter fare la sauna, le cerette senza alcun problema perché tutto questo non aumenta il rischio di recidiva del melanoma, cioè non c'è un effetto meccanicistico di queste manovre nel facilitare la disseminazione delle cellule neoplastiche. Questo è qualcosa che si credeva penso nel medioevo ma ormai siamo diciamo nel 2018 e credere ancora a queste cose è assolutamente imbarazzante.